Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, la nostra rassegna stampa, nei nostri studi rinnovati in questo mercoledì 5 dicembre 2018. Iniziamo subito con le quattro edizioni del centro, iniziamo dunque dai quotidiani locali, dalle prime pagine. Siamo sull'edizione di Pescara, massacrato di botte in casa dai ladri. Pescara, il titolare del ristorante stabilimento iBin, dice mi hanno picchiato a sangue. Sotto la testata abbiamo invece la politica alla vigilia del vertice, la Lega dice no al nome di Marsilio. E poi la protesta, caro Pedaggi, i sindaci abruzzesi oggi a Roma. E poi la battaglia del Movimento 5 Stelle, ludopatia all'Abruzzo conquista la maglia nera. Vediamo poi a centro pagina sempre il riferimento al titolo d'apertura con il titolare appunto massacrato di botte, il volto tumefatto. E poi ancora i richiami, turismo. Sabato ripartirà il bus che collega i parchi a Roma. E poi ancora made in Abruzzo, confetti pelino alle nozze reali nel Qatar. E poi di spalla, siamo sempre a Pescara, area di risulta e scontro. Slitta il Consiglio. Non si sa quando il progetto per le aree di risulta tornerà in Consiglio Comunale. Ieri i capi gruppo non hanno trovato un accordo. La cronaca ancora a Pescara, omicidio russo, uccise il vicino, il killer, era malato. E poi ancora in basso, ieri nella visita che è stata fatta nella redazione del centro, dal centrocampista del Pescara, Luca Crecco. Crecco ci crede, Pescara resto e mi gioco là. Crecco che non ha giocato tanto nella prima parte di stagione, vuole allontanare voci di mercato. E poi ancora, tornando alla cronaca, spray contro l'ex, paura alle poste, lite in via Passo Lanciano, colpiti anche dipendenti e clienti. Un ufficio evacuato. In basso, il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il perdono impossibile di Liliana Segre, la senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Andiamo avanti e siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Questa è l'apertura. Boss dell'Andrangheta ha processo a Chieti Cuppari per la prima volta in aula per un collegamento protetto dal carcere. E poi abbiamo la fotonotizia a centropagina. Premiato il pompiere eroe salvò una donna su un ponte. Vigili del fuoco in festa al comando di Chieti. Di spalla siamo a Lanciano, raid dei mandali nella scuola di Marcianese. Poi ancora a Vasto, sempre la cronaca, assalto armato alla gioielleria, quattro condanne. E a Chieti, stadio, il Chieti e il comune, verso l'accordo. E poi ancora sotto la fotonotizia, massacrato di botte in casa dai ladri, il titolare del ristorante stabilimento Aibine è stato un inferno. E ora siamo sulla prima pagina del centro, edizione Terramana, Palazzo Pompetti, 5 indagati. Lo storico edificio di Terramo, dichiarato inagibile, non è mai stato lasciato dai privati. E poi ancora a centropagina la fotonotizia. I vigili del fuoco abbracciano gli scolari in piazza per la festa della patrona Santa Barbara. E poi di Spalla, vediamo la sentenza, traffico di oli esausti, assolti tutti gli imputati. A Giulianova, Porto, cambia la viabilità e nuovo accesso. E poi ancora numeri allarmanti, la differenza sulla costa nord, pardon, la differenziata sulla costa nord scende ancora. E poi l'edizione aquilana del centro, ecco l'apertura, beni nascosti al fisco, tre nei guai, società fasulle, sono indagati imprenditori dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ecco qui, e poi la fotonotizia, tagliato tra le proteste, oggi farebizze il nostro taccio, ecco qui tagliato tra le proteste il nastro del nuovo ospedale a Sulmona. Cerimonia e polemiche. Poi ancora di Spalla, originario di Trasacco, troppi favori, colonnello sotto processo. E poi l'Aquila, in provincia, influenza, sono già 25 mila i vaccinati. Sempre all'Aquila, negozi in centro, il bando finanzia altre 33 attività. E poi ancora la cronaca sotto la fotonotizia, maestra elementare, umore nel fiume, sciocca a Castel di Sangro, il corpo della 71enne è stato scoperto da alcuni passanti. Vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, con la cronaca in primo piano, sequestrato e picchiato dalla gang a Pescara. Il titolare di alcuni ristoranti cinesi sorpreso dai banditi appena entrato in casa, ferito con un cacciavite, costretto a indicare la cassaforte. Addio, 12 mila euro e un Rolex. Vediamo ora i tre richiami sotto la testata. L'Aquila, Animesante, sale l'attesa per l'arrivo di Mattarella, previsto appunto per la giornata di domani. A Sulmona, aperto il primo ospedale antisismico della regione. Poi lo Sport, la Serie B, Pescara, profumo di rivincita, ma con il Carpi ci vuole grinta. L'unico obiettivo di pilone non ne resta la vittoria per rinunciare il Delfino. Venerdì all'Adriatico va cancellata l'onta dello 0-5 di quattro anni fa. Davvero altri tempi, il Carpi lottava anche per andare in Serie A, era il Pescara di Baroni. E poi ancora di spalla autostrade. I sindaci protestano oggi a Roma. Sicurezza e tariffe di A24 e A25. Delegazione chiede garanzie a Toninelli. E andiamo in taglio medio, intanto con la fotonotizia maggioranza pilotata. Borgia a giudizio. Le parole poi del Presidente della BCC sono sicuro che verrà fatta chiarezza. Dice appunto il numero uno della BCC abruzzese. E poi ancora, sempre in taglio medio, Marsiglio, guidare l'Abruzzo è la mia missione. Il senatore contestato da Forza Italia si sente candidato. Il vertice dei leader chiarirà la mia posizione. E poi in basso, Nass a scuola, Domus Marie, la mensa è ok. Andiamo ora con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Una sfilata di testimoni eccellenti. Questo è il titolo d'apertura, complotto ai danni del questore. In aula citati agenti, militari, medici, il blogger e l'ex assessore. E poi sotto la testata, intanto per la politica, dopo Astolfi e Rompicapo, anche Marcone. Scannatoio politico altri tre candidati in regione arrivano appunto dal comune Ducale. E poi ancora, terremoto 2009, Lucarelli alla guida della ricostruzione. Terremoto 2016, assise civica sui problemi dell'ufficio speciale per la ricostruzione. E poi Natale, Terramano Doc, il titolo della fotonotizia. Piazzato il grande abete bianco in Piazza Martiri. Poi i richiami intorno alla fotonotizia, sempre a Teramo, Teatro Romano. Divergenze tra conservare e recuperare. L'incontro occorre come curia, uniti contro le fake news. Incontro che si è tenuto ieri in curia a Teramo. E poi, sociale, Roseto pronta a lasciare l'unione dei comuni. Consiglio di Stato, ribaltata la sentenza sui galle. Poi in basso, a Giulianova, Spider rubata, ritrovata in una officina. Eccola qui. Per lo sport, il calcio in particolare, Serie C, il Teramo, chiama Rocco Costantino. Il colpo si può fare. Andiamo ora sulle prime pagine delle testate nazionali. Poi torneremo tra poco, tra pochi minuti, sulle pagine dei quotidiani locali. Andremo all'interno. Ma ora la parentesi dedicata ai quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre così. Salvini attacca PM imprese, manovra. Il Ministro dell'Economia apre alla revisione sul reddito e pensioni. Scontro con il procuratore Spataro per un tweet. A Confindustria dice, ci lasci lavorare. E poi ancora, scendiamo. Siamo in taglio medio, intanto con la fotonotizia. La rivolta delle calciatrici che denunciano gli abusi vittime, le giocatrici della nazionale afghana. E interviene la FIFA. Di spalla torna la cupola. Un gioielliere era il nuovo Rina. Fermato il capo dei capi. 46 gli arresti. La prima pagina di Repubblica Conte, le parole dunque del Premier con l'Unione Europea, tratto io e la manovra, può cambiare. Dice appunto il Premier, colloquio con appunto il Primo Ministro. Riforme, serve più tempo, libertà di coscienza sul global impact. E poi sotto la testata, il reportage in aula con il Ciappo, il boss dei narcos che sfida pentiti e giuria. E poi in basso, uno dei casi della giornata di ieri, lo scontro tra il procuratore di Torino, Spataro, e il Vice Premier Salvini. Spataro contro Salvini, il suo tweet ha svelato le indagini. La replica, meglio se va in pensione. E ora il Fatto Quotidiano, la GAF, questa è l'apertura del fatto. Salvini avvisa i nigeriani della retata, tweet alle 9, mentre la polizia cerca la gang, Spataro mette a rischio l'operazione. Lui vada in pensione. E poi ancora Conte con Juncker, parlo solo io, serve tempo per le riforme. Andiamo a centro pagina, Mediolanum mette, Mediolanum Mattarella nei guai, promuoverà il giudice indagato, Giovagnoli inquisito per corruzione, in pol per una presidenza di sezione. E poi ancora Benzina, aumenti congelati, ora Macron fa marcia indietro e sconfessa l'austerity targata UE. Avanti con la prima pagina di Libero. Salvini agli imprenditori chiede più collaborazione. Appello del Ministro, diamoci una mano. Matteo Coccola, artigiani piccole aziende, replica le critiche di Confindustria, la quale condanna una manovra che ignora su grandi opere e investimenti ci saranno sorprese. Poi ancora a centro pagina, colpo di scena, il Ministro Tria non è affatto un fessacchiotto. E poi in basso la porno marescialla dei carabinieri resta al suo posto. Bene, dice il Quotidiano Libero. Siamo sul messaggero, questa l'apertura. Manovra sul filo, tagli al reddito, tempi stretti per le richieste all'Unione Europea. Attenzione alla Camera, Tria, rivediamo le misure. Sussidio di cittadinanza, 2 miliardi in meno, assegno per 18 mesi, prorogabile solo per un anno. Andiamo sotto la testata, intanto con lo scrittore Andrea Camilleri. Memorie dell'infanzia felice nella casa dei sogni, mi fingevo papa. E poi per il calcio si parla di Lazio Nervitesi in ritiro, Lazio spaccata, la cena disertata, Inzaghi in crisi e Peruzzi all'addio. Scendiamo in taglio medio con questa notizia particolare di sport. Bulling Italia strike mondiale con il fornaio Ipro USA KO in squadra Pierpaolo, amministratore di Condomini Romano. Dunque complimenti alla squadra azzora di Bulling che ha conquistato il titolo mondiale. E poi ancora Haftar vola a Roma sui migranti in Libia, l'accordo a un passo. Il leader Dito Brook vedrà l'ambasciatore USA in Tunisia, Conte, per trattare il suo ruolo futuro. E poi ancora in basso, visto che siamo ormai in periodo, film targato Vanzina. In Natale a 5 stelle, farsa sul paese che non cambia. Ci avviciniamo al momento dei Cinepanettoni. Andiamo ora sulla prima del manifesto che apre così. Chiacchiere è distintivo con una foto di Matteo Salvini mentre fa un video. Alle sue spalle una veduta di Roma. Scontro tra Salvini e il procuratore di Torino Spatari. In un tweet il ministro svela un blitz di polizia contro la mafia nigeriana e fa infuriare il magistrato che attacca, danneggia le immagini non ancora concluse. Sprezzante la replica. Sei stanco? Vai in pensione. E poi sotto la testata sveglia Notav al governo non amico. Sabato a Torino si annuncia una grande manifestazione contro la Torino-Lione. Siamo sulla prima pagina del giornale. Matteo ha cerchiato Salvini contro tutti, attacca Confindustria, poi litiga con il PM di Torino per un tweet. L'opposizione di Forza Italia, noi partito del PIL. E poi ancora andiamo al commento di Marcello Zacchei, rapporti sempre più tesi, il nervo scoperto degli industriali. La fotonotizia che riguarda un fotografo, si tratta di Olivero Toscani, finito nella bufera nella giornata di ieri. La Meloni brutta e ritardata, lo scatto di diozia di Toscani. E poi in taglio medio i guai di famiglia, Di Maio chiude la ditta e chiede pietà, gli abusi edilizi saranno demoliti. Società in liquidazione, il sole 24 ore, ecco l'apertura, Industria 4.0, prorogato il bonus formazione, tax credit rinnovato per un anno, mini bond al PMI, call crowdfunding, la deducibilità IMU sui capannoni sale al 40%, bonus sull'auto elettrica. Sul deficit nessuno intesa, TRIA, ora servono decisioni politiche. E poi la fotonotizia, ecco qui, trasporti eccezionali, K.O. per burocrazia, strade vecchie, i trasporti oversize, quelli oltre le 100 tonnellate, sono rallentati da infrastrutture datate e autorizzazioni lente da ottenere. E tutto questo ovviamente nel nostro paese. Poi appalti, un decreto semplifica legare la riforma del codice, prime reazioni negative del lancio, attenzione alla trasparenza del mercato. E poi ancora banche, riforma UE, sblocca crediti, approvata dal Consiglio Ecofin, slitta l'assicurazione comune dei depositi. La prima pagina della verità, la deriva nelle nostre scuole, test per sapere se i ragazzi amano i gay. Roba da matti in Umbria, con la benedizione della giunta PD, chiedono agli alunni di terza media se si sentono omosessuali, bisessuali o asessuali. Ormai anche in Italia dilaga l'ideologia gender. E poi Vittorio Sgarbi a centro pagina nella fotonotizia, quota Sgarbi in pensione senza aver mai lavorato su panorama in edicola da oggi. Gli effetti dei contributi figurativi con una intervista al critico d'arte. In taglio medio, Macron cede ma non ferma la rivolta, il deficit francese schizza al 3,2%, niente tassa sul diesel, il mancato introito peggiora i conti. Che dice Bruxelles? Siamo sulla prima del mattino, Tria, le parole del ministro Tria, rivediamo la manovra, taglia il reddito di cittadinanza, tensioni alla Camera, il ministro dice, valutiamo nuove misure per ridurre il debito, ridotti i tempi del sussidio per risparmiare, 18 mesi e un solo rinnovo di un anno. E poi ancora sotto la testata da Sheva a Modric i sei palloni d'oro del maestro Ancelotti. E poi in taglio medio, Di Maio liquida la ditta, Luigi in pizzeria pagato con i voucher, gli ex titolari del ristorante da noi tutto regolare, abusi di rizzi al via le notifiche per l'abbattimento. Siamo sul tempo, con questa apertura, risparmi sui vitalizi già buttati via, la Camera vuole usarli per affittare nuovi uffici, per i deputati che si sentono un po' stretti, pressing di tutti, così Montecitorio per tre anni costerà 943 milioni, come nell'era Boldrini. E poi sotto la testata, lo sport per la Lazio, una crisi in quattro atti, mercato tenuta mentale, modulo e infortuni, ecco perché il meccanismo bianco-celeste si è inceppato. E poi a centropagina il tempo di Oscio e Capirai, o manco fosse Gomorra, blitz antimafia svelato in diretta web, Salvini fa infuriare il giudice Spataro. La stampa Toninelli congela i lavori della TAV, la rabbia degli imprenditori se fermano l'opera sono fuori legge, oggi vertice con Conte e Di Maio. Tria sulla manovra, valutiamo se quota 100 reddito di cittadinanza, costano meno. Scendiamo a centropagina, ecco la foto notizia, Kaliningrad rivolta a colpi di vernice, Kant è un traditore. La prima pagina del secolo, ecco qui, con in primo piano leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mafia umanitaria, Fratelli d'Italia, serve spezzare il controllo del territorio da parte di chi ricambia la concessione del permesso per motivi umanitari con la criminalità organizzata. Poi in basso troviamo questi tre richiami, legittima difesa stop 5 stelle, ala vicino a Fico contraria, Brexit allarme per la Unione Europea, la previsione americana. Poi Berlusconi antimanovra, opposizione durissima. Chiudiamo con l'avvenire, ecco qui il titolo d'apertura, morti alla deriva. 15 migranti hanno perso la vita su un barcone senza cibo né acqua per evitare di essere riportati in Libia e non avrebbero chiamato i soccorsi. La testimonianza di 10 sopravvissuti. Parolin, non lasciamo in strada i richiedenti asilo. E poi, in taglio medio, ridecapitata la mafia 2.0 e Salvini brucia un blitz, 46 arresti in Sicilia. Il ministro anticipa in un tweet un'operazione a Torino. Torniamo ora sui quotidiani abruzzesi. Lasciamo le prime pagine delle testate nazionali e siamo sul messaggero. Ripartiamo dalla politica. Ecco qui Abruzzo alle urne e Marsiglio parla già come candidato. È la mia missione, l'ufficialità della mia nomina. Atteniamo l'incontro dei leader. Ho paura che una volta eletto troverò brutte sorprese nei conti. Poi i sondaggi, prosegue Marsiglio, sono per me positivi, buoni numeri anche se sono poco conosciuto sul territorio. Proseguiamo sempre con la pagina politica. Polo della sinistra diviso. Sinistra italiana e metà ambientalisti in cerca di un uomo forte. In basso, Gran Sasso, finanziata a metà la pista di handbike. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara, quindi con la cronaca, con quel fatto che ha dato il titolo d'apertura al messaggero Abruzzo, legato e picchiato in casa dai banditi. Rapina da arancia meccanica. In piazza Primo Maggio la vittima è un imprenditore cinese di 74 anni, titolare di Aibin e altre attività. È stato ferito con un cacciavite e costretto ad aprire la cassaforte che conteneva 10.000 euro in contanti e un orologio di valore. L'uomo è riuscito a liberarsi e dare l'allarme soltanto dopo mezz'ora in ospedale, giudicato guaribile in 21 giorni. Poi ancora la testimonianza della vittima e le immagini delle telecamere sono i primi spunti per le indagini. Poi ancora panico nell'ufficio postale per una lite tra ex coniugi, 20 persone medicate dal 118. Lei ha usato lo spray al peperoncino temendo una aggressione. E poi in basso leggiamo Borgia a giudizio, un nuovo scontro con Falcogno. La grana giudiziaria sul rinnovo dei vertici della BCC coinvolge anche tre notai della lista perdente. Ancora a Pescara Domus Maria e Mensa Ok risolte tutte le criticità, solo contestazioni amministrative. L'Istituto ha già chiarito con il fornitore i genitori degli alunni. Siamo sollevati, è un bene che ci siano i controlli del NAS. La dirigenza ha annunciato altre verifiche per proprio conto e collaborazione con i carabinieri. E poi in taglio medio senza tetto a Portanova, giallo in aula, scontro su area di risulta e bilancio. In basso il premio ai vigili eroi di Rigopiano e l'obiettivo della nuova caserma in occasione della festività di Santa Barbara. Ancora nel Pescarese, qui siamo a Brittoli, soldi spariti, ex sindaco condannato, nove mesi per l'appropriazione indebita, Claudio Di Paolo, incaricato di investire il denaro di un ricco emigrato di Brittoli. La battaglia vinta da Franco Silveri, partito giovanissimo dal paese, è diventato capitano di industria in Canada e Florida. Secondo il giudice furono distratti 800 mila euro dai 4 milioni destinati a un piano di interventi edilizi. E poi ancora la cronaca accoltellò a morte il vicino, non era sano di mente, si alleggerisce la posizione processuale di Roberto Mucciante, accusato del delitto di Salvatore Russo. Le pagine dell'Aquila, ecco qui Forza Italia, lo show di Martino, stoccate all'Iris, Biondi e Marsiglio. Il possibile addio del vice sindaco, vietati cambi di casacca prima del voto. Il candidato presidente, ecco i paletti, psichedelica l'idea del sindaco presidente. Poi ancora il deputato ha sostituito Morelli al coordinamento comunale e ha presentato le prime operazioni. E poi ancora in basso, Trust per eludere il fisco maxi sequestro. Le fiamme gialle hanno scoperto un'evasione da 1,7 milioni di euro nei guai imprenditore Aquilano. Avanti ancora, Anime Sante Berlusconi da Forfè. il cavaliere non sarà presente alla cerimonia di domani. Biondi accoglierà il presidente Mattarella al suo arrivo. Cambia la delegazione francese, ci sarà il ministro degli esteri, vietato ad entrare in chiesa. Allestiti maxi schermi in piazza. E poi ancora siamo a Sulmona, il primo ospedale antisismico d'Abruzzo, inaugurata ieri una struttura bella e accogliente con spazi pensati sul modello USA Open Space che sembra di essere in un serial TV per entrarci dentro. In realtà ci vorrà ancora qualche mese tra marzo e aprile per definire tutte le autorizzazioni. E poi ancora, sì, possiamo andare, possiamo andare subito a vedere il servizio. Stavo controllando se erano presenti altri articoli su questa inaugurazione che andiamo a vedere attraverso il servizio realizzato dal TG6. Si è svolta questa mattina a Sulmona la cerimonia di consegna alla ASL del fabbricato del nuovo ospedale annunziata, il primo totalmente antisismico della regione. È un punto di riferimento, cercheremo di farlo diventare un punto di riferimento per eventuali, ci auguriamo che non capitino mai grandi emergenze e quindi adesso bisogna fare un grande lavoro per far riconquistare anche la fiducia della gente a frequentare questo nostro ospedale che è molto importante nel territorio. Un ampliamento che assicura l'assessore alla sanità Silvio Paolucci creerà anche posti di lavoro. Oggi è una giornata di festa per Sulmona e per l'intero Abruzzo. Nell'arco di una legislatura noi posiamo la cosiddetta prima pietra e inauguriamo un ospedale nuovo, antisismico, bello, funzionale, accogliente, dalle tecnologie innovative e che ha luoghi in grado di accogliere meglio utenti, pazienti, cittadini e operatori sanitari. Credo che sia davvero un giorno di festa che deve essere accolto dall'intera comunità regionale come un momento straordinario perché sul solco dell'inaugurazione dell'ospedale di Sulmona vogliamo procedere anche con la definizione dei nuovi investimenti che vedranno anche altre realtà avere, realizzare al proprio interno per l'Abruzzo, per le loro città, per i loro territori un nuovo ospedale. Credo che sia davvero un passaggio significativo. E oggi questo ospedale che inauguriamo tra qualche mese, qualche settimana, quando si completeranno ovviamente la parte degli arredi e della sterilizzazione dei locali vedrà all'opera per i cittadini e con gli operatori quelli che sono appunto i servizi sanitari con finalmente anche una risposta importante sul personale perché nel nuovo piano abbiamo messo in campo e stanziato 18 milioni di euro finalmente dopo l'uscita dal commissariamento che abbiamo fortemente voluto anche per riempire il presidio ospedaliero di tanti operatori nuovi, giovani e freschi. Pagine di Chieti del messaggero Ribaltone in corte d'appello la ASL licenzia d'Agostino i giudici dell'Aquila dicono procedura corretta l'ex assessore sarà fuori dal 7 di dicembre si deciderà invece il ricorso in Cassazione la vicenda nasce dall'arresto per concussione la riformata la sentenza del tribunale che annullò il provvedimento disciplinare e poi ancora il processo Rapinò l'ex capo della mobile albanese rischia 6 anni e mezzo e poi avanti siamo ad Ortona nuova galleria per i treni merci si chiama Dei Frentani ci potranno passare con vogli i cube con evidenti benefici per i traffici con il sud realizzata da RFI con 25 milioni di spesa e 14 anni di attesa è la prima fase del raddoppio ferroviario a nord di Ortona e poi gli sviluppi dell'operazione Evelyn a vasto Tafili non sono il capobanda i coinvolti respingono le accuse e poi le pagine terramane del messaggero accordo comune università su ex manicomio e linee bus per la prima volta il vertice dell'Ateneo stipula una intesa con la giunta municipale ricomposta la frattura creatasi tra Unite e la precedente amministrazione civica un documento sulla riqualificazione del capoluogo individua gli obiettivi comuni tra i due enti e poi di Spal l'incontro ieri tra Corecom e Curia a Teramo le parole del Vescovo Monsignor Leuzzi l'informazione sia sempre più rigorosa questo l'appello lanciato dal Vescovo Monsignor Leuzzi e poi a Giulianova centro storico al buio boom di furti di saggi nella parte alta della città per i malfunzionamenti dell'impianto elettrico dell'illuminazione pubblica e privata il commissario Soldà ha chiesto spiegazioni a Era Luce l'azienda risolverà i problemi al differenziale e a 50 pozzetti i residenti chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine in particolar modo nella zona dietro al comune e poi ancora sempre a Giulianova bare aperte al cimitero le foto finiscono in rete e poi questo fatto curioso a Roseto portano la Porsche rubata dal meccanico ladri scoperti noi ci fermiamo qui con la prima parte di mattino 6 ora diamo lo spazio alle previsioni del tempo poi alla pubblicità poi rientriamo con la seconda parte di mattino 6 per sfogliare le pagine del centro della città e per vedere altri servizi di nuovo buongiorno seconda parte di mattino 6 che apriamo con le pagine del centro ecco qui lotta la ludopatia malati di gioco l'abruzzo maglia nera indagine a tappeto del movimento 5 stelle in cima della classifica c'è San Giovanni Teatino le parole della consigliera e futura candidata a governatore Marcozzi di chiudere le sale slot vicine alle scuole e qui ci sono dei numeri di questa indagine sul gioco d'azzardo e sulla ludopatia condotta dal movimento 5 stelle in basso regione disavanzo ridotto a 186 milioni raggiunta dall'ok al rendiconto di gestione del 2017 mette ordine dopo i rilievi della corte dei conti passiamo alla pagina successiva e siamo alla politica dalla Lega allo stop definitivo a Marsiglio parla Giulianti il vice di Bellacchio ma no al senatore candidato presidente arriva dai vertici romani del carroccio e Martino di Forza Italia rincara la dose viene prima l'Abruzzo a centro pagina i movimenti delle civiche Gerosolimo va verso l'Udc Zelli porta con sé anche Fiorilli e poi in basso organizzato da Di Stefano Pescara venerdì il convegno sulla nuova rete ospedaliera le primarie del PD 200 firme già raccolte a sostegno di Zingaretti e ora la pagina Abruzzo con la vicenda Pedaggi che torna in primo piano Pedaggi i sindaci tornano dal ministro la denuncia senza interventi concreti il primo gennaio scatteranno nuovi aumenti siamo pronti a occupare i caselli ma la questora di Roma non ha autorizzato la sfilata di tiro la manifestazione è prevista oggi alle 10 e 30 e poi ancora in taglio medio ma 192 milioni per i viadotti restano bloccati il 21 ottobre Torinelli scrisse che i fondi sarebbero stati presto disponibili il suo ministero lo smentisce poi in basso l'inchiesta sui piloni si allarga agli impalcati Teramo vanno avanti gli accertamenti disposti della procura sulla sicurezza statica dell'autostrada e poi ancora la regione punta sul turismo riparte l'Abruzzo Bus che collega Roma ai parchi sono tra le aree protette e interessate dal servizio che comincia sabato prossimo due corse giornaliere da Tiburtina a Castellisangro e Scanno al costo di 28 euro andiamo avanti siamo sulle pagine di Pescara ritroviamo la cronaca fatto che insomma abbiamo visto anche in precedenza massacrato di botte dentro casa il titolare di Ibin dice un inferno piazza primo maggio ore 16 il proprietario dello stabilimento ristorante è aggredito da tre banditi mi hanno puntato il cacciavite alla gola legato mani e piedi volevano i soldi erano pronti a uccidermi e poi ancora urla e botte ma i vicini non hanno sentito nulla i residenti del palazzo non è la prima volta ma adesso abbiamo davvero paura preoccupazione anche tra i commercianti il centro è sempre meno sicuro e poi in basso purtroppo questo è un fatto che si inserisce all'interno di una tristissima catena rapine in casa una lunga scia di violenze l'ultimo caso molti di voi lo ricorderanno a Lanciano vittime coniugi martelli nel 2014 tocco a Stromei pochi mesi fa ai Canta avanti ancora BCC di Cappelle Brogli al voto incetta di deleghe Borgia a giudizio per il presidente della banca prima udienza il 15 aprile gennaio tocca tre notai per le deleghe irregolari dell'altra lista sono sicuro che finalmente potrà essere fatta piena luce sugli accadimenti per un definitivo chiarimento queste le parole di Michele Borgia poi la cronaca spray urticante contro l'ex panico alle poste in via Passo Lanciano la donna ha colpito involontariamente anche dipendenti e clienti ufficio evacuato e poi ancora l'omicidio di Salvatore Russo uccise il vicino per i rumori il killer era affetto da patologia si alleggerisce la posizione di Roberto Mucciante la perizia dello psichiatra Gian Antonio dice che è in grado di partecipare al processo previsto per domani l'incidente probatorio poi ancora la ricorrenza di ieri di Santa Barbara patrono dei vigili del fuoco vigili del fuoco festa tra i bambini consegna delle beneverenze il comandante resta la sfida per la nuova caserma e questi alcuni degli scatti della festa di ieri si torna a parlare di area di risulta a pescare un argomento sempre attuale area di risulta e scontro slitta il consiglio i capigruppo non trovano l'accordo sulla convocazione della seduta per l'esame del progetto invece il bilancio arriva il 14 skate park leggiamo di spalla la commissione chiede modifiche al progetto e poi ancora sempre a Pescara non solo cani e gatti in casa ora anche maialini e conigli le abitudini dei pescaresi il negoziante Passeri c'è chi ha chiesto una scimmia e se cala la moda dell'iguana resistono pitoni e tartarughe spuntano i camaleonti pagina di Montesilvano il viaggio in questo reportage del centro viaggio nel quartiere dove ha vinto il cemento palme morte aiuole spoglie alberi malati terreni incolti pieni di erbacce nella zona PP1 la riqualificazione delle strade ha dimenticato il verde urbano e le zone in questione sono come vediamo in particolare via Inghilterra ma anche via Lealdomoro in particolare nella zona antistante il pala di Martin poi piazzale Kennedy e via Strasburgo proseguiamo siamo sempre a Montesilvano tributi il comune cambia la società di riscossione addio Soget da questa settimana imposte di affissione passi carrei andranno versate alla Andreani uffici aperti 40 ore a settimana e 5 operatori a disposizione del pubblico proseguiamo e siamo a Francavilla al mare cantiere del comune primi arretrati agli operai stipendi in regola ai dipendenti del cimitero mentre tra i lavoratori impegnati nella ristrutturazione del municipio c'è chi avanza fino a 7 mensilità qui siamo a Brittoli ex sindaco di Paolo condannato a 9 mesi avrebbe utilizzato parte dei soldi affidati da un emigrante per viaggi e acquisti prescritte le accuse alla moglie siamo ora alle pagine di Chieti ma la vita calabrese parte il processo Drangheta il boss in videoconferenza Cuppari capo della cosca di Brancaleone interviene dal carcere in Friuli accusato anche di roghi di auto e botte a un cantante e poi di spalla sesso in cambio di casa è confermato il licenziamento dell'ex assessore Ivo D'Agostino e poi in basso sempre la cronaca rientra in casa e si trova un ladro davanti paura a guardia grele commerciante grida e il movivente si lancia dal balcone per scappare con i gioielli e torniamo alla vicenda dell'aggressione e rapina ai coniugi Marteglia Lanciano il capo della gang ora è pronto a parlare da Rebibbia torna in città per un maxiprocesso sui furti d'auto e vuole incontrare il procuratore per discolparsi ero il palo e poi ancora in basso marcianese bandali alla scuola elementare in serata rovesciano banchi e armagli spaccano vetri e poi esultano oggi le lezioni non si fermano a vasto assalto alla gioielleria quattro condanne la rapina nel centro di vasto con un coltello pene pesanti per la banda di pugliesi che tende in ostaggio l'orefice scafetta le pagine di terramo sul centro ancora la vicenda di palazzo pompetti scatta l'inchiesta edificio mai sgomberato cinque indagati la procura contesta ai privati l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non hanno rispettato l'ordinanza del sindaco e poi ancora sempre a terramo consiglio straordinario il 14 seduta post-sisma c'è la data ma il commissario si nega in basso ribaltone tra i due gall al consiglio di stato in secondo grado data la sospensiva al terraverdi terramane che potrà avere i fondi dalla regione bloccata infatti l'assegnazione al granzasso laga di matone l'assessore pepe plaude alla decisione dei giudici la sentenza definitiva ci sarà il 18 di aprile e poi la cronaca sempre a terramo traffico di oli eh pardon traffico di rifiuti cinque assoluzioni a giudizio non erano finiti un imprenditore di Giulianova la moglie e tre collaboratori per il tribunale il fatto non sussiste è il caso degli oli esausti avanti ancora siamo a Silvi la pista ciclabile passerà sul lungomare nel tratto centrale sostituirà gli attuali parcheggi il sindaco Scordella dice aspettiamo proposte dei cittadini per gli altri segmenti ecco qui nel render come sarà la pista ciclabile nei pressi del comune andiamo avanti ora sulle pagine dell'Aquila indaga la filanza al vaglio quattro anni di conti società fasulla per evadere il fisco nei guai in trail GIP ha accolto la richiesta del PM disponendo il sequestro preventivo di 1.700.000 euro la tesi dell'accusa sottrazione fraudolenta delle somme al pagamento dell'imposto ma la normativa è articolata e si prevede una battaglia legale e poi ancora Gran Sasso via libera agli impianti da sci superata ieri mattina l'ultima verifica dell'Ustif pronte le seggiovie adesso si aspetta soltanto la neve giusta andiamo a chiudere con il centro con questa notizia che ha scioccato la comunità di Castel di Sangro maestra elementare muore nel fiume il corpo della 71enne avvistato dai passanti il sindaco Caruso siamo a Franti era una donna graziosa e gentile Anna Santo Stefano appunto di 71 anni la procura dispone l'autopsia per fare chiarezza forse è scivolata nel corso d'acqua o ha avuto un malore lasciamo il centro cambiamo testata portiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo con la cronaca a pagina 5 sarà una sfilata di testimoni eccellenti poliziotti carabinieri medici il blogger l'ex assessore tra le decine di persone che verranno ascoltate in aula le false aggressioni una donna accusa il questore di aggressione l'amico ex carabinieri chiama il 113 ma le indagini ribaltano la ricostruzione e a processo ci è finita la donna qui i protagonisti di questa vicenda Tiziana Panichi accusato il questore di aggressione di aver affrontato a colpi di pistola un politico che l'avrebbe difesa Giorgio Ciccone ex carabiniere più volte decorato amico della donna telefonato al 113 per denunciare le presunte violenze poi Flavio Conciatori che è il giudice che ha stralciato l'ex carabiniere che ha chiesto una oblazione per il procurato allarme si deciderà a gennaio proseguiamo e siamo a pagina 6 vedute differenti sul progetto del teatro romano la soprintendenza presenta una serie di osservazioni nell'idea di recupero proposta dallo studio Bellomo pagina 7 consiglio straordinario sulla ricostruzione convocato per il 14 dicembre potrebbe arrivare la mozione di sfiducia per il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Marcello D'Alberto qui in questa foto e poi pagina 8 Corecom Curia contro le fake news ieri al Vescovado l'incontro tra i giornalisti abruzzesi e il Vescovo Leuzzi sulla comune lotta per la verità e noi andiamo a vedere il servizio il Corecom Abruzzo inaugura una serie di incontri nelle diocesi abruzzesi per parlare del rapporto tra informazione e mondo cattolico si parte da Teramo e la Curia Vescovile apre le porte a giornalisti e operatori del settore partiamo da Teramo dove c'è un nuovo Vescovo da qualche mese che ha dato uno slancio di impegno non solo pastorale ma anche su tutte le tematiche che riguardano il territorio e quindi dal mondo dei giovani all'università al lavoro alla ricostruzione fino ad arrivare alla cooperazione internazionale quindi un approccio sistemico innovativo che può consentire ad un territorio di ripartire e di farlo anche insieme al mondo della stampa questo primo incontro del Corecom Abruzzo teso a promuovere un dialogo sempre più stretto tra il mondo dell'informazione e quello cattolico avviene nel giorno di Santa Barbara un giorno speciale ricco di eventi di piazza dedicati al coraggio dei vigili del fuoco tutti indivisa per la benedizione in cattedrale dopo la messa celebrata dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi Monsignor Leuzzi ha poi accolto i giornalisti nel salone della Curia Vescovile penso che la stampa abbia un ruolo importante penso che soprattutto per i giovani molto dipende da voi dai messaggi che voi comunicate della capacità di coinvolgimento per cui questo incontro per me è un momento importante anche per non solo per far conoscere perché credo che la Chiesa non abbia bisogno di fare propaganda ma anche piuttosto per sorricitare tutti a utilizzare i metri della comunicazione per far crescere e soprattutto per aiutare le nuove generazioni a affrontare con serenità i problemi con i giovani perché molti giovani oggi sono molto riusciti e molto vatti io penso che il vostro ruolo sia determinante su pagina 9 piazzato l'albero di Natale della città sinergia tra privato e istituzioni del territorio per regalare una bete del ceppo alle feste del capoluogo e questo è lo scatto in cui si vede l'albero che viene sollevato per essere messo nella piazza una bete bianco proviene dal ceppo alto 16 metri pesa 50 quintali due gru per sollevarlo 300 sfere rosse e l'8 dicembre ci sarà l'accensione e poi ancora nuova era nei rapporti tra comune e Ateneo una convenzione per regolare l'attività tra le due istituzioni dopo anni di confronti non idilliaci andiamo avanti siamo a pagina 16 affollamento ducale per le regionali dopo la candidatura di Astolfi e Rompicapo arriva anche quella di Marcone Marcone correrà alle regionali nel movimento civico azione politica di Gianluca Zelli e poi ancora sociale Roseto lascia l'unione dei comuni pronta a creare una nuova zona di gestione assieme alla sola notaresco dunque c'è stato uno strappo arrivato dopo un botte risposta tra l'assessore di Bartolomeo e Terre del Sole apriamo ora la pagina dello sport attraverso la città e ci avviciniamo al mercato arrivano le prime voci una riguarda l'attaccante ora al Suttirol Rocco Costantino il Teramo chiama Costantino si può fare l'attaccante non rinnova col Suttirol ma serve uno sforzo economico tra i partenti anche Bacio e poi corsa a due tra la punta del Suttirol che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza giugno ma ci sarà bisogno di una trattativa per portarlo in bianco rosso e bisognerà fare prima cassa e poi in basso il settore giovanile del diavolo passa in mano ai due soci Mauro Schiappa nuovo presidente della cantera priorità ai giovani del nostro territorio spighi fuori per due settimane possiamo andare ora sulle pagine nazionali del dello sport vedendo le tre principali testate gazzetta corriere e tutto sport prima di tornare alle pagine locali qui siamo sulla gazzetta le stelle rosa del 2018 assegnati i gazzetta sports awards il meglio dello sport italiano ai premi della gazzetta la freccia tortù l'olimpionica gogia atleti dell'anno le ragazze della pallavolo d'argento al mondiale elette migliore squadra ecco qui i due atleti dell'anno tortù e gogia e poi ancora è già juve inter giochiamo c'è la allegri e i cardi sul palco degli awards accendono la sfida max avverte partita piena di fascino con livello massimo di difficoltà spalletti un grande e maurito attacca non firmo per il pari sarà un piacere trovarmi di fronte cristiano ronaldo e poi ancora il corriere dello sport che apre così apre con le parole del neopresidente federale gravina fateli giocare il presidente federale detta la linea sfiorando il caso Ibra Cutrone prosegue gravina non è vero che noi italiani non abbiamo i talenti quelli ci sono ma a differenza degli altri paesi non li formiamo li trascuriamo è l'ora del cambiamento e poi ancora sotto la testata blitz di maurito Icardi pronto pardon Icardi contro Ronaldo venerdì sera una sfida tra due giganti del gol l'Inter proverà a fermare la corsa della Juve come con i colpi di testa e poi in basso questa notizia che arriva dall'estero Siti ombre sui conti il UEFA indaga Champions 2019 in pericolo e ora tutto sport che apre così caro amico ti sfido Juve-Inter partitissima anche sul mercato da una parte paradici dall'altra Marotta prossimo all'ingresso nella dirigenza dell'Inter e poi sotto la testata Milan Sarri spinge Cahill verso Gattuso Toro fiducia Zazza farà come Belotti torniamo ai quotidiani locali lo facciamo attraverso il messaggero ecco qui lo sport parliamo di Pescara Pilon con il Carpi c'è aria di rivincita unico obiettivo del mister ex di turno resta la vittoria per rilanciare il Pescara venerdì sera l'adriatico va cancellata l'onta di quel doloroso 0,5 di 4 anni fa poi di quella serata da incubo sono testimoni Swagher Pasciuti Poli Concas Fiorillo e Memushai anche se Fiorillo non sarà della partita e poi il mercato Elisalde tra Juventus e Inter spunta Leverton in basso il Basket Sharks il patron Cimorosi sulla pardon Culla Sogni di Gloria e se in tre stagioni provassimo a tornare in Serie A dopo il Summit prima del match con il Ravenna e poi ancora l'Unibasket vince ancora Raiola un grande gruppo poi per la Serie C Teramo verso l'addio a Bacio Terracino la società Biancorossa si sta muovendo in vista del mercato di gennaio interessa l'attaccante pienetese Rocco Costantino per Spighi stiramento del bicipite femorale lo stesso importunio che ha costretto Caidi a saltare le ultime due gare poi ancora per quanto riguarda il calcio dei direttanti in Serie D Lavastesi acquista Capellupo e Sbardella quest'ultimo in uscita dalla Vezzano e poi Lanciano il presidente dei vincenti si dice un finale impegnativo Ortona e Bagigalupo due team molto ostici e ora andiamo sul centro con le pagine dello sport ecco qui ieri la visita nella redazione del centro del centrocampista ex Lazio Luca Crecco Crecco non molla Pescara resto e mi gioco la Serie A a Perugia l'unica gara da titolare ma non pensa di cambiare non mi arrenderò mai qui puntiamo ad arrivare in alto non siamo in crisi dice Crecco daremo tutto per vincere Piloni allenatore esperto e preparato apprezzo molto la sua sincerità la passione per il calcio grazie a mio padre nonno Oscar mi portava sempre agli allenamenti e poi sul fronte formazione Antonucci resta in dubbio Memuschai sente di nuovo dolore oggi e domani allenamenti a porte chiuse allo stadio e poi ancora per la Serie C Teramo chiesti al Sassuolo i baby Raspadori Colai il DS Biancorosso Federico incontro il club emiliano per i due attaccanti torna in moda il bomber Leonetti della Vastese sabato a Vicenza senza Spighi e poi mercato dei direttanti Rucci verso Notaresco Tacchi nuovo allenatore del Miglianico la Vastese ingaggia Capellupo e poi andiamo a vedere il basket la pagina del basket Roseto studia la trappola calendario cammino difficile per gli Sharks che nelle prossime cinque partite sfideranno le big noi siamo alla fine di questa edizione di mattino 6 di questo mercoledì 5 dicembre 2018 mattino 6 che torna domani alle ore 8 vi ricordo però gli appuntamenti informativi per questa giornata con la nostra emittente le tre edizioni del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti